Sì alle modifiche alla disciplina dei siti estrattivi da riqualificare. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. ARPAT, via libera del Consiglio al bilancio preventivo 2022 e pluriannale 2022-2024. L'Aula ha espresso parere a maggioranza con 20 voti a favore, 11 contrari e un voto di astensione. Consiglio, approvato e rendiconto per il 2022. L'atto è stato votato a maggioranza. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Il provvedimento è stato approvato con 21 voti a favore, 2 voti contrari e 5 astenuti. L'atto, che interviene sulla legge regionale del 2015, è stato illustrato dalla Presidente Lucia De Robertis, che ha parlato di un provvedimento che disciplina il recupero di aree interne ai giacimenti. Ci sono tutta una situazione in Toscana, tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale, che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto più ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per la Tostata ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro, né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge che era emersa a novembre in Commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto ai emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostendere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. Per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano di essere diseconomici e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali quindi richiesta dai territori e quindi sostenuta con forza anche dal nostro partito rimane un po' anacronistica dal punto di vista molto ideologico dei Cinque Stelle che contrario a tutti anche su questo aspetto vorrebbero un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Non ci sono ovviamente rischi ambientali, c'è una tutela ovviamente del paesaggio ma viene prima ovviamente in questo contesto, in questo momento storico, lo sviluppo economico l'ha bisogno di far ripartire molti interventi, una questione di tutela ambientale che deve andare di pari passo con uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e bilancio pluriannale 2022-2024 di ARPAT l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. L'Aula ha espresso il parere con 20 voti a favore, 11 voti contrari e un voto di astenzione. Non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023, un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto. Quindi anche in Aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. Arpat è un'agenzia assolutamente importante per la regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che Arpat sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Su Arpat si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della regione per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare i bilanci di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare i bilanci di previsione 2022 vuol dire che tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già spesso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del Cheu e non solo. Il sostegno a un'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è molto importante. ARPAT sta riscoprendo un ruolo fondamentale per la tutela della qualità non soltanto dell'ambiente ma soprattutto in un contesto come quello attuale dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità della nostra vita nel territorio toscano. Quindi da parte nostra un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno per quanto riguarda una votazione di un Consiglio regionale che dà manforte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. Il gruppo della Lega ha votato convintamente contrario a questo bilancio che in primo luogo arriva e giunge all'attenzione dell'Aula con un ritardo veramente inammissibile. Inoltre abbiamo evidenziato il fatto, come dicono i revisori dei conti e la stessa Giunta, che siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta. L'Aula ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza, mentre il gruppo della Lega ha votato contro e Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Ha approvato invece all'unanimità l'ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliere Elisa Tozzi in merito alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello, colpiti dagli eventi meteorologici del 17 maggio 2023. Il rendiconto del Consiglio regionale, noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza a 1.700.000 euro, ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito, ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace e l'abbiamo fatto presente al Presidente Gianni e al Presidente Mazzeo. Il gruppo del PD ha votato in maniera favorevole al consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2022 perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio sono risorse che sono costanti negli anni quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte cito il risparmio di 300 mila euro sulle utenze in tempi in cui il costo delle utenze è esploso avere risparmiato 300 mila euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. Gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali come per esempio ormai va di moda al Covid sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è a nostro avviso comprensibile è bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo abbiamo in particolar modo evidenziato invece che una parte di queste risorse sia spesa per avere a disposizione dei consiglieri regionali fondi per le proposte di legge le proposte di legge che sono un diritto dei consiglieri regionali se non hanno le gambe cioè se non hanno le risorse per poter essere poi effettivamente portate in fondo non hanno senso perché sono un diritto sostanzialmente negato sono direi soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in serie di approvazione del rendiconto del Consiglio noi avevamo un avanzo importante cioè cosa significa? avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consigliare ecco oggi l'Aula in modo direi unanimo e questo mi dà particolare soddisfazione ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni in gente situazioni di grave difficoltà che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione in Alto Mugello sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale lo sappiamo bene sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso la percorribilità della loro viabilità il collegamento per le attività economiche per i cittadini è importante riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo si trova sui temi sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli direi anche dei piccoli capolavori perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini quando questo accade e lo si fa in modo unanime io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti